Falso allarme bomba oggi nella città dei Templi dove in mattinata in piazza Marconi sono stati rinvenuti quattro zaini sospetti abbandonati nei pressi della stazione ferroviaria. Gli echi dei recenti attentati terroristici di Parigi hanno fatto scattare subito l'allarme. In attesa dell'arrivo nella città dei Templi degli artificieri dei carabinieri l'intera area era stata fatta evacuare. I zaini, tutti dello stesso modello e colore, sono stati abbandonati in più punti. La paura fin da subito era che potessero contenere qualche ordigno esplosivo. Giù di sul posto gli artificieri hanno fatto brillare le sacche. Fortunatamente si è trattato di un falso allarme, nessuna bomba ma solo indumenti. I zaini infatti sarebbero simili a quelli distribuiti ai migranti in arrivo sulle nostre coste che gli stessi probabilmente prima di lasciare la città dei Templi hanno abbandonato in strada facendo così restare col fiato sospeso l'intera comunità agrigentina.